...della Coppa Terreno, settantottesima edizione, quattordici giri... ...dodici giri alla conclusione, dopo Teti, San Paoli... ...dopposì nel metto, 119, a chiudere il numero 8 della... ...fletto, applausi, dodici giri alla conclusione, dopo due giri, il tempo generale di 20 minuti e 36... ...dopposì nel comando, Matteo Piccioni e Dario Milandri, Marche Lazio all'attacco... ...attenzione a questo trappello di prendere i seguitori, con il numero 101 della Sider-Mech... ...c'è anche la nuova forza in 0k, a 7 secondi, a 12 secondi in funco, in evidenza la Sider-Mech per i vitali... ...per il numero 97 su 80, vigilante, Antonio Gabriele vigilante sul Francesco Pedrosino... ...sono rimasto ancora al comando, Pedrosino secondo, vigilante primo al traguardo volante di Cavano dopo il quinto giro... ...attenzione, forza ragazzi, 9 giri alla conclusione, ora viene, ecco tutto il gruppo... ...viene il momento del gruppo allungato, percorso traguardo volante, attenzione... ...metà percorso traguardo volante, 7 giri alla conclusione, ancora vigilante... ...vigilante, vigilante Pedrosino-Veghetto, vigilante Pedrosino-Veghetto, attenzione... ...vigilante, Veghetto-Veghetto-Veghetto... ...vigilante, 15 secondi per il gruppo... ...grande scopo di scoperta dottile, ha messo per i vitali... ...traguardo volante ragazzi, traguardo volante, traguardo volante, attenzione... ...quinto al traguardo volante, attenzione... ...forsi incitamento per Giuseppe Sannino e Francesco Pertorini... ...due giri alla conclusione... ...30 secondi, 30 secondi... ...per il gruppo allungato, l'applauso di Cavano... ...il portatore della Vecce Cilinascita, a fare la natura... ...30 secondi... ...i due protagonisti della Porta Cavano, da Cattolica, Emilia Romagna... ...Francesco Pertorini, ed ecco in lontananza... ...l'altro compagno di fuga, da Napoli... ...Giuseppe Sannino per lasciare il segno... ...sulle tre di case della Coppa Cavano... ...del Milano Magno, Francesco Pertorini, da Napoli... ...Giuseppe Sannino, applausi! ...Ultimo... ...il passaggio del gruppo... ...40 secondi... ...Posture di Moridiero, Campania... ...progetto Cilinascita... ...edizione 78... ...Bartolini Sannino, Bartolini Sannino, parte lavorata... ...Sannino Bartolini Sannino, Bartolini... ...sulle tre... ...Sannino! 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 ...Ei posizione... ...F Massimilinascita... ...Done che fa parte... ...Ei un gruppo! Grazie a tutti.